Che succede? Ma le cose non vanno come dovrebbero andare Chiudi gli occhi Chi? Chiudi gli occhi Riesci a sentirlo? Beh nonno, ma sentire cosa? Il suono dell'albero dei limoni Prendine uno Senti il profumo che arriva dal mare Vuoi prenderti una pausa dopo questo lungo viaggio? Guardati intorno Magari non sei da solo Valla a conoscere Ma oltre a non conoscerà, non so chi sia Vai, non fare l'asino e parlale Fermati Mettiti qualcosa di più elegante E adesso passate del tempo insieme Ah, va bene Conosco un ottimo posto E adesso Dove hai intenzione di andare? Potrei andare al mare? Molto bene Hai capito? Sì nonno, è stato bellissimo Ma una curiosità nonno Se la dolce vita è così bella Perché sei stato? Perché mi piace vivermi la vita così Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti